Terra d'Italia, terra di eroi, 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 terra d'Italia, matrice di eroi, eroi, eroi. I corsi della Hitlerjugend Militarisch ande Accademia di Wittenbrookk', dovebbe anche accimentarsi in uno di quei fiammigerati duelli chiamati Schattenburg, nel quale rimase per sempre e orgogliosamente induоне.. Il ca saremo il mazzo, ci staziona, il castor, col gran comando e travesti la carabiniera, la quale faremo arrestare un'opertalista nera, responsabile cilò di carne E personalità, pericolosa, uomini politici, sindacalisti, elmanidi, giornalistici, fanieri Henry Trump Ischassi ne vogli manci Ischassi ne vogli manci Hip, 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 hip Ha! e benedizio dei omnipotenti in nome dei pati, i settili e il spirito sta Arendi, pacienza, schiarda, so camillo, masticoni, arlampa, ronca e scitta Arendi, pacienza, schiarda, so camillo, masticoni, arlampa, ronca e scitta Terra, Italia, matrice di eroi Terra, Italia, matrice di eroi Terra, Italia, matrice di eroi Matrice di eroi Al mio palazzo, e tra le fila grazie Da quale faremo arrestare Un'italista nera, fialicata Di personalità più pericolosa Uomini politici, sindacalisti, ebrei, giornalistici, stranieri E ricciù, discasseremo il massimo Matrice 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 di eroi Di eroi Di eroi Di eroi Cip, 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 cip Ura! Cip, 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 cip Ura! Lei disegni Di un destino crudele Stava scritto Che ci trovassimo qui Gli occhi troppo fieri Perché si imbagnano di lacrere Ma il cuore non di pietra Perché non si spezza Cip, 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 cip Cip, cip Cip Italia matrice di eroi terra d'Italia che tanto haia amato che tanto haia amato terra d'Italia matrice di eroi terra d'Italia matrice di eroi che tanto haia amato terra che tanto haia amato di tante battaglie e di tante vittorie l'omore di gestare un pugno di quella terra che tanto haia amato terra d'Italia matrice di eroi il colonnello è il primo nome della lista redatta il colonnello è il primo nome della lista redatta nel 68 militare di eccezionale temperamento nel 1942 frequentò i corsi della Hitlerjugend Militari Scenda Accademia di Wittenburg dovebbe anche accimentarsi in uno di quei falligerati duelli chiamati il quale rimase per sempre e orgogliosamente deturbato allora ci stai si o no? si 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 e benedizio dei omnipotenti in nomine patris et fili et spiritus santi grazie